è la nostra missione aiutare chiunque stia soffrendo si sente escluso lui ha un progetto per noi che ti ha detto di fare questa volta jim predicherà e io canterò dio non ci vuole poveri è un uomo molto potente ora dio ha voce in questa battaglia contro chi lo fa i liberali e le loro idee gli omosessuali e logica siamo tutti solo persone veniamo tutti dalla polvere e dio non ha creato dei rifiuti effervescente se ogni persona che ci guarda riesce a raddoppiare il suo impegno adesso servire dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi non stiamo facendo niente di male però è una domanda io voglio solo amare le persone steve è malato di ice tu devi controllarlo il diavolo sta venendo a prendermi teme si deve parlare di satana adesso certe persone stanno talmente male che noi dobbiamo solo amarle questa sono io